In questo modo, Zeno ha fatto questa cosa in duro per fare funghi e castagni. A io, come potessimo fare, a me piace più. Ci metti la stessa cosa? Eh, mettiamole, ci vuole, ci vuole, qua. Poi lo stesso loco. Eh, no, poco poco più loco. Sanno il frasso. Ah, giusto, c'è. Eh. Parola. Allora, è poco più scoperto, se no. Però questa minzalita, non lo so se... Sì, su due quadri. Se stiamo bene. Sì, quindi non mi devo mettere la minzalita. Ebbene, allora, mamma, abbiamo la stessa tecnica che prima, tanto è già sperimentale. Non si ammazzano. E tu la prima? Ha messo? Eh. E già tra l'altro mi ha passato a mettere, eh? Eh, no, come stiamo prima? Mimma, quella di rindo. Ma tieni tu la frenata, Rocco. No, no. Solo che io non ce la faccio tanto, però... Ma che è più leggero qua? C'è quello che ha differenziato sui cittadini. Pronto? Vai. Lascia, lascia. La situazione. Ehi, abbiate questi fungos, Rocco. Non ce l'ho andato a fare una... Furnuto, mi stai mandando nemmeno. Che ci vuoi prendere i cittadini? Tu vuoi che questo giubbino ancora? Ma che è? Vierne. Eh? Questo giubbino ancora, direttore. Voi, raro, le due giubbine. Voglio mettere i fungos. Ehi, amici. I suoi ilimano. Ehi. Ehi, amici. Ehi, amici, a chi. Ehi, amici. Ehi, amici, è una strada di conoscblezza di onde, ah pigliato? mi puoi buttare in un zaino? eh si, ah, si, ah ah, si, ah, si, ah ma non li dott'animale